buon pomeriggio cari amiche cari amici buon pomeriggio un bel pomeriggio un bel pomeriggio però parliamo subito di cose di campo dopo come sempre avervi invitato a iscrivervi al mio canale youtube ad attivare la campanella a mettere i vostri like ai miei video subito cose di campo Pulisic Pulisic non si tratta di un problema grave ha accusato un crampo ma il movimento della mano indicava il flessore come se si fosse come se avesse avuto una lesione al flessore però gli esami non sono ancora stati effettuati gli esami diciamo clinico la palpazione anche di questa mattina non fa presumere una cosa grave perché il giocatore non non aveva dolore mentre forzava il movimento quindi non dovrebbe esserci una cosa grave oggi o domani gli esami strumentali si parla già di affaticamento allora la situazione è che contro il lecce probabilmente non ci sarà e quindi sarà purtroppo per lui costretto a saltare la convocazione con la nazionale statunitense che non dobbiamo mai dimenticare sta giocando delle partite amichevoli perché essendo gli stati uniti il paese ospitante insieme al canada e al messico del del prossimo mondiale è già qualificato di diritto quindi pulisic non ci sarà probabilmente a lecce ma non ci sarà per la nazionale quindi contro la fiorentina ci sarà e ci sarà per affinare la condizione in vista del match di dormund che diventa la partita più importante di questo fine 2023 perché poi sentirete questa sera vi anticipo vi spoilerò un piccolo pezzo ve lo anticipo io secondo le informazioni io non ho verificato lo dice il nostro amico Luca Diddi il nostro match analyst ospite del mio canale youtube sembra che ci sia stato un lavoro importante pesante alla vigilia del match contro l'udinese in quella settimana per arrivare con le gambe rapide morbide veloci contro il pari san germain e ha fatto bene pioli secondo me non ha fatto bene ha fatto benissimo perché certo il milan è a sei punti dall'inter però mancano 25 26 partite alla fine lì se fosse andata male col pari san germain e il milan non avesse giocato una partita delle partite perfette quante a quanto a determinazione e attenzione chiaro che eravamo fuori eravamo fuori dalla champions league così non siamo ancora dentro però tutto è cambiato sul piano della classifica tutto passa dal match di dormund che è la partita più importante di questo fine 2023 perché il campionato certo è importante ma passato l'esame dormund ci sarà l'esame newcastle ma puoi gestire ovviamente i risultati per cercare di non allontanarsi dall'inter e sperare che poi visto che si gioca inter juventus il giorno di fiorentina milan milan fiorentina si cercherà ovviamente di recuperare verranno recuperati dei dei punti se il milan sarà bravo a battere la fiorentina quindi questo è importante dobbiamo anche sottolineare che come è importante la partita contro il borussia dormund ha incomincia a essere pesante anche la partita contro il lecce una partita delicata però è un milan che va a lecce tonificato fortificato dalla prestazione una prestazione che indipendentemente dal 4 2 4 2 3 1 4 3 3 mettete quello che volete ha visto la determinazione l'attenzione la concentrazione di tutti i giocatori e come diceva boscov parlando di gullit un cervo che esce dalla foresta ieri il milan ha avuto un cervo che riesce dalla foresta che si chiama loftus cic ho visto le statistiche 22 punti sui 30 disponibili con loftus cic cinque punti sui 15 disponibili con senza loftus cic cinque gol tre gol realizzati durante l'assenza di loftus cic 15 o 17 scusate gol realizzati con loftus cic perché è un giocatore fondamentale è un giocatore come pulisic di categoria adesso facciamo sì che il milan recuperi tutti gli infortunati poi ci sarà da divertirsi ci sarà da diventare una squadra vediamo se c'è vediamo se c'è un se ci sono delle notizie non nuove non ce ne sono stavo guardando le notifiche scusatemi e dicevo la presenza di loftus cic musa signori ho trovato il soprannome e ringrazio luca bianchin della gazzetta perché non voglio fare il fenomeno quando c'è un bel soprannome per musa volevo mettere vola colomba perché yunus vuol dire colomba però bianchin è stato geniale musa cell come dura cell meraviglioso meraviglioso pazienza se non l'ho inventato io l'ho inventato luca bianchin bravo luca ma io con il copyright di luca bianchin lo dirò sempre ma musa cell è meraviglioso e oggi e domani faremo un bel video dicendo appunto dando il soprannome nuovo nuovo a questo giocatore vent'anni signori vent'anni perché parliamo di mercato parlavo sempre sempre con luca oggi signori è un mercato che secondo i risultati diventa buono diventa cattivo ma il milan ha speso i 20 milioni per giocatore venti venticinque il bonus per musa che ha vent'anni per pulisic che ha che ha venticinque anni che costa come i giocatori italiani per reinders per reinders signori è un mercato aspettiamo che salga anche chukweze o cafor noi non parlo di mercato sontuoso perché sennò vi irritate e si irritano però è un mercato che sta portando a casa giocatori giovani che possono crescere già giudichiamo un giocatore di vent'anni da due mesi in italia e quindi andiamo a sottolineare anche questo mercato senza ogni volta dire mercato buono mercato cattivo in base ai risultati mercato è stato un fallimento dio mio quante cose che ho sentito negli ultimi giorni è un mercato che ha portato giocatori giovani giocatori interessanti e musa pulisic reinders loftus c 25 26 anni loftus c che costa che costa la metà di giocatori italiani ma signori i giocatori di 36 40 milioni di euro centrocampisti 36 40 questo è costato è costato 20 milioni loftus c e andiamo ancora a criticare il mercato del milano se lo facciamo in base ai risultati certo certo siamo dietro sei punti dall'inter vedremo lasciateci fate sì che siamo sempre con tutti i giocatori presenti e poi ci divertiamo chiaro chiaro se c'è qualcuno che ha le colpe sugli infortuni bisogna ovviamente capire il motivo poi andiamo anche a un altro giocatore molto criticato signori abbiamo un giocatore io lo ricordavo sempre quando veniva criticato che in un in dieci giorni ha fermato uno contro uno quara e poi ha fermato dopo l'uno contro uno con quara è riuscito a fermare anche mbappé grazie all'aiuto e ieri il tanto vituperato il tanto vituperato pioli ha giocato alla sua maniera venendo venendo facendo venire avanti anche lo stesso calabria non è cambiato nulla però ieri non si nota contro l'inter prendi cinque pereline e allora si nota ieri calabria ha giocato come all'inizio di campionato lasciando la compagnia e andando spesso che dicevo ma dove vai che c'è dietro mbappé no il milan non ha snaturato il suo gioco poi è stato determinato forte quando è riuscito poi a tenere senza che creassero grandi pericoli i tentativi del del paris saint germain quindi una bella grande partita che ci ricordano le grandi belle partite del milan contro il nelle serate nelle grandi serate di champions league siamo contenti abbiamo visto un grande milan abbiamo abbiamo sono contento per pioli a proposito complimenti gli è nato ho letto oggi da milan news non so se il nipote o la nipotina e quindi è tornato subito a casa congratulazioni per la nascita di un nuovo rosso nero adesso concentrazione il milan è ancora pienamente dentro in champions league saranno saranno due sfide meravigliose contro un bel newcastle che nonostante la sconfitta contro borussia dormund che poi vorrà è un onorare quindi saranno due grandi sfide però il milan ha dimostrato di ritornare di avere quella compattezza ci siamo riconciliati con il grande milan e siamo veramente molto contenti siamo veramente molto contenti di avere gustato una serata da milan in una partita che tutta l'europa ha ammirato il milan grande pubblico l'ha detto anche l'allenatore luis enrique ieri grande pubblico grande atmosfera grande milan grandi singoli girou che ha onorato il compleanno di marchetti del 7 novembre insomma un anche sul piano dei singoli vado a ricordare lui e le hao non posso ignorare le hao che ieri ha dato il premio al papà abbracciandolo e però il problema è uno che le hao doveva scartarne uno driblarne uno e andare invece quando quando è qui in italia contro le squadre italiane c'è sempre raddoppio come ha fatto il milan contro combate quando andava tomori e ciao partita straordinaria anche di loro due megnane ritornato il portiere non è mai andato però mi avevo bisogno di una prestazione grande contro indipendentemente da tutto quello che è successo contro un donna ieri si è stata la sfida anche dei portieri perché fra tutte e due hanno giocato una partita straordinaria la parata suo caffordi donna ruma è una parata sontuosa se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like iscrivetevi al canale youtube di carlo pelle gatti attivate sempre ovviamente la campanella e buon milan a tutti stasera luca diddi con la tattica